Il Sava proda in semifinale di Coppa Italia d'eccellenza e lo fa battendo Lugento, ma solo dopo i 90 minuti e i calci di rigore. Al dodicesimo minuto, il primo tiro della partita, e di stampa a Savese, Leo Pizzi devia in angolo. Lugento risponde al diciannovesimo con Di Palma, che si lancia verso il fondo, torna indietro, passa a Galeandro, che stoppa e calcia in porta, colpendo in pieno la traversa. L'ultima vera azione del primo tempo è del Sava, che riparte in contropiede al trentaquattresimo, a tu per tu con Leo Pizzi, respinge coi piedi salvando il risultato. Il secondo tempo parte forte come il primo, tanta battaglia. Al quinto minuto, Kirivi si invola in area, passa per Escobedo, che di spalla alla porta si gira e calcia. Maraglino respinge con un colpo di Lenny pazzesco. Al diciassettesimo cross di Greco per Gianmarruco, che calcia al volo da posizione eccellente, ma butta via il potenziale 1-0. C'è una punizione del Sava al venticinquesimo, interessante. Batte Procida forte e basso sul primo palo, Leo Pizzi compie il miracolo. Tre minuti dopo la mezz'ora del secondo tempo, tiro a sorpresa di De Gregorio, Leo Pizzi vola ancora e salva ancora Lugento. Nessun'altra vera occasione degna di nota e termina dopo 90 minuti più 4 di recupero la gara fra Sava e Lugento 0-0, dunque solo i calci di rigore possono stabilire la semifinalista. La batteria di calci di rigore la fa partire Lugento che sbaglia il dal primo. Si presenta Lopez dal dischetto e sbaglia. Successivamente Lopez segnerà Carrozzo, ma poi sbagliano anche Cicerello e Marconato. Il Sava dunque ne trasforma 3 su 3, non sbaglia. L'eroe di giornata è Maraglino che para dunque 3 rigori a Lugento e il Sava vince 3-1 i calci di rigore e va in semifinale di Coppa Italia d'Eccellenza.